L'azienda ospedaliera di Perugia si dota di nuove tecnologie di diagnostica per immagini, settore nel quale nel 2018 ha investito 3 milioni e 700 mila euro per l'acquisto di macchinari innovativi, due TAC multislice, due mammografi digitali stereotassi, due archi AC portatili, un angiografo biplanare e un sistema imaging intraoperatorio. Ha inoltre adottato e finanziato un piano triennale degli investimenti 2019-2021 per un importo complessivo di quasi 29 milioni di euro, 15,6 dei quali per ulteriori ammodernamenti tecnologici, tre angiografi per la cardiologia interventistica, una PET-TAC, un acceleratore lineare per la radioterapia oncologica, ai quali si aggiungerà a breve oltre un milione di euro finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per l'acquisto di una nuova risonanza magnetica, tre Tesla. Un quadro illustrato a Santa Maria della Misericordia, presenti da Presidente della Regione Catiuscia Marini ed Assessore alla Sanità Luca Barberini.